Il numero 12 del catalogo ITS si chiama Twain B, un maschio bio-oscuro nato il 29 maggio. Figlio dello stallone garanzia Toss Out e della velocissima Lovely B, 1-12-3, vincitrice del criterium Vinovo Fili e piazzata nella Gran Premio d'Europa Fili e di altre classiche. Interessante la seconda mamma, Middle Branch Emily, madre dell'ottimo riproduttore Stallone Jet. Interessante la seconda mamma, Middle Branch,